Quest'anno al centro commerciale Il Giardino ti aspetta la Pasqua più golosa e colorata. Sabato 7 aprile, non perdere la rottura del maxi uovo pasquale. Potrai degustare il finissimo cioccolato di produzione artigianale. Inoltre potrai partecipare al concorso Dolci Sorprese. Per il più fortunato in palio un maxi uovo da 10 chili. E per i più piccoli tanta animazione e divertimento. Dal 10 al 15 aprile non mancare all'evento I Colori della Primavera. Con la realizzazione in galleria di bozzetti di sale colorato a cura dell'Associazione Maestri Infioratori di Noto. Dai colore al tuo shopping. Ti aspettiamo. Centro commerciale Il Giardino, Iperspar e i 35 negozi. Ad Avola in Contrada Risicone, Circonvallazione Avola Noto. Grazie. Grazie.